Udinese Tonight, eccoci qui, è arrivato anche il gol di Beto venerdì e siamo insomma tre giorni dopo questa bella vittoria che ci ha rinfrancato e che davvero fa bene a tutti, alla squadra, all'allenatore, all'ambiente insomma per affrontare con fiducia quelle che saranno due belle sfide toste la settimana che ci aspetta, ma attenzione perché questa sera siamo ovunque. Non so se partire dallo studio, parto dallo studio, Alessandro Surza, buonasera. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti voi, si parte con tante cose, no? Con tante cose, tante cose, allora saluto subito Filippo e Adriano Fedele, ciao ragazzi. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Visto che avevate nostalgia vi ho riportato anche Max Moras. Ciao Max, ciao Giorgia. Come fai senza Tonight? Eh, un po' difficile, un po' difficile, nostalgia. Ti manchiamo, lo so. Sì, sì, la nostalgia. Stai bene combusato ma lo so che ti manchiamo un po'. Va bene. Allora, eh, vado a salutare anche Paolino Poggi. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Poi saluto il nostro direttore Michele Criscitiello. Ciao Michele. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Giorgia. Allora, siamo dritti sull'attualità perché sono ore, insomma, importanti in sede all'Udinese Calcio. Tra poco ci collegheremo con Jacopo Romeo perché è arrivato Eizibue. Beh, allora, appena Jacopo sarà pronto, gli darò la linea, vi farà vedere tutto live e tutto in esclusiva, tutto quello che sta succedendo in questa serata in cui, eccole qui, guardate le prime immagini, queste sono immagini veramente di pochissimi minuti fa. L'Udinese ha l'esterno destro, di cui abbiamo tanto parlato dopo la partenza di Sopì e Eizibue ha fatto le visite mediche a Roma e ora è lì in sede. E allora, tra poco andremo da Jacopo a farci raccontare tutto. Ma siamo anche su un altro fronte perché sono giornate importanti a San Daniele dove si celebra il prosciutto e si celebra anche all'interno dello stand Udinese Calcio dove trovate H24, il Poma. Buonasera, Poma. Buonasera, Giorgia. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Buonasera allo studio. Buonasera al direttore a Milano. Buonasera veramente a tutte le persone che ci stanno seguendo anche grazie allo streaming perché Udinese TV lo sappiamo che è seguita in tutto il mondo. Ci troviamo a San Daniele per l'ultima giornata di area di FVG, area di festa, qui di festa ce n'è tanta, anche perché il bianconero unisce sempre le persone. Questa sera abbiamo qui, oltre che il primo cittadino che andremo subito a presentare e poi racconteremo queste quattro giornate, però abbiamo qui i due club di San Daniele perché il bianconero, come dicevamo prima, unisce. Qui abbiamo il signor Gianni Giovanni e il signor Giovanni del 33038 e delle zebrette che sono qui. Insieme a noi hanno già marchiato di bianconero il sindaco. Sì, San Daniele è un marchio importante e a San Daniele c'è l'udinese che unisce tutti quanti i nostri cuori. San Daniele con il bianconero e con lo stand in quest'area di festa particolare della rinascita dopo due anni di attesa, è un San Daniele che ha visto tanti tanti cuori bianconeri pulsare, tanti cuori fiulani e tanta gente da fuori venire a vedere le nostre eccellenze, Udinese e il prosciutto di San Daniele. E qui Caraggia ci saranno tante sorprese perché ce n'è una anche per te, mi raccomando tra poco andremo a scoprirla quando tu vorrai, intanto vi ridò la linea perché noi iniziamo a fare un bel brindisi adesso con i due club di San Daniele, con tutte le persone che ci stanno seguendo da casa e magari se volete venire a fare un giro a San Daniele c'è tanta festa, anzi area di FVG. A voi studio. Tutti quelli che sono in direzione San Daniele vadano dal Poma, va bene, veremo da noi nel corso della serata. Oh, manca il super ospite di questa sera. Aspetta, forse prima devo andare da Jacopo. Sì, vado prima da Jacopo che vedo che è arrivato tutto sudato. Che sta succedendo Jacopo Romeo, buonasera. Ciao, ciao Giorgia, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri amici da casa, proprio perché era un po' di corsa, come dicevi. Non so se la nostra regia o tu avete già mostrato le immagini che proprio cinque minuti fa, grazie al nostro sempre strepitoso sulle, abbiamo girato qui alla Dacia Arena perché di fatti è appena arrivato qui a Udine, Kingsley e Izibue che sarà l'ultimo acquisto per il momento, perché poi mancano ancora tre giorni alla fine della sessione di mercato per quanto riguarda l'udinese, esterno, destro, difensivo, olandese che proviene dal Colonia e è arrivato, guarda, praticamente in diretta, proprio pochi minuti fa qui per guardare lo stadio, per parlare con la dirigenza bianconera e poi andrà ad apporre la firma sul contratto che la legherà all'udinese perché viene prelevato a titolo definitivo dal Colonia, quindi Giorgia è possibile che nel corso della tua trasmissione, della nostra diretta riusciremo proprio a mostrarvi le immagini, le prime immagini proprio ufficialmente dal giocatore dell'udinese con la maglia bianconera indossata di Kingsley e Izibue che nelle prossime ore, nei prossimi minuti, speriamo anche perché così riusciamo a documentarlo in diretta dovrebbe andare a siglare il suo contratto con l'udinese che dovrebbe essere un contratto quadriennale lui è stato un giocatore molto importante, non negli ultimi anni, soprattutto per il Colonia perché è una squadra che ha fatto molto bene in Bundesliga e lo scorso anno è arrivata settima, si è qualificata per la Conference League e infatti Izibue ha giocato proprio anche la gara di ritorno vinta per 3-1 dei suoi giovedì scorso in Europa League, è subentrato, ha giocato l'ultima mezz'ora della partita, ha giocato anche la prea giornata di Bundesliga ha giocato in Coppa di Germania, questo per dire che cosa? Che è arrivato qui a Udine, firmerà una volta espletate, sistemate tutte le formalità burocratiche anche per il tesseramento, l'orizzonte, Giorgio, è quello di averlo proprio a disposizione e vedremo se anche in campo perché il giocatore è pienamente allenato per la partita di mercoledì contro la Fiorentina quindi restiamo sempre con una finestra live in caso di chiedere la linea quando avremo sviluppi in tempo reale per la firma di Kingsley e Izibue Assolutamente, ci aggiorniamo più tardi, grazie, grazie mille Jacopo Romeo, che bello così darvi le notizie tutte live e adesso andiamo a scoprire chi è l'ospite di questa sera, clip musica 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 E allora diamo il benvenuto a Jean-Victor Machengo, ciao! Ciao Jean, benvenuto! Ciao, benvenuto, è sempre un piacere! Ciao, è bene, sì, beh! Stai bene, molto meglio dopo aver vinto una bella partita in maniera convincente, no? Che dici? Non c'è medicina migliore, credo, eh? Senti, tu guardi le immagini di Eisi Bue, abbiamo imparato che si dice così, finalmente abbiamo capito come si dice, non lo so, ti è venuto in mente il giorno in cui sei arrivato qui un po', ci pensi ogni tanto, è passato un po' di tempo ma di strada ne hai fatta? Sì, sì, però è un buon momento, mi ricordo che veramente sono molto contento di essere in più la testa. Perfetto, allora, mentre cerchiamo, mi dicono che non ti funziona il microfono, adesso cerchiamo di ripristinarlo, vado a fare un giro veloce di impressioni su quello che è stata la vittoria contro il Monza. Posso partire da Paolino Poggi? Parto da lui, insomma, che cosa ti è piaciuto, che cosa hai trovato più convincente nell'Udinese che ha vinto a Monza? È stata una vittoria netta, al diare il risultato che non è stato ampio, però la squadra ha strameritato di vincere. C'era un abisso, io sono andato a Monza, l'ho vista la partita e la sensazione era quella che all'Udinese bastava accelerare un po' per riuscire a portare a casa la vittoria. Bene, in crescita la squadra, assolutamente, dopo la partita precedente. Buone sensazioni, davvero. Monza, c'era anche il direttore. Michele, tu che dici? Io, ragazzi, scusate, ma ho fatto 3 su 3, quindi al di là di Marino, di Sottilla e Poma, credo che in pochi abbiamo visto 3 su 3 delle partite. E i tifosi straordinari dell'Udinese, mi sono fatto Milano, Udine, Udinese-Salernitana, Monza-Udinese. Il mio giudizio è che la squadra sta migliorando, la squadra sta crescendo, il risultato serve grazie anche al cinismo della partita, perché Paolino Poggi, giustamente, dice abbiamo strameritato. Secondo me hai meritato, hai sfruttato le tue occasioni, giusto per creare un po' di dibattito, altrimenti sembra un unico filone. Non hai strameritato, però comunque hai fatto la tua prestazione molto, molto interessante e importante. Continuo a dire quello che ho detto settimana scorsa, per me la squadra con Beto acquisisce una pericolosità offensiva clamorosa. In studio avete uno dei miei giocatori preferiti degli ultimi anni dell'Udinese, perché per me Makengo è un giocatore eccezionale e straordinario. Ero ospite del Monza in occasione del Monza Udinese, si girano alcuni dirigenti, non faccio nome e cognome, e mi dicono ma che calciatore è questo, perché sto ragazzo è fortissimo, ha delle qualità davvero straordinarie. Ti saluto, ti faccio complimenti, se continui così fai una carriera eccezionale. Detto questo, adesso ci divertiamo con le prossime due in casa, che purtroppo non vedrò dal vivo. Va bene, ti perdoniamo, dai, insomma tre su tre non è male, non è male, non li fa tutti i complimenti. Mi fa un piacere, grazie, grazie mille. Va bene, telegrafici anche in studio, Adriano Fedele, chi è del partito del meritato e chi è del partito dello strameritato? Si può dire che siamo tornati alla normalità, abbiamo ripreso un po' il discorso dell'anno scorso, Neto è tornato a fare un gol importante perché l'ha preparato bene e l'ha eseguito meglio, Udoce anche lui si è ripreso a quello dell'anno scorso, è ripreso, ha fatto anche lui un grande gol. La squadra è tornata, non ancora al 100% ai livelli dell'anno scorso, però non siamo molto distanti. Alla fine, negli ultimi dieci minuti, c'è stata una manifesta superiorità, addirittura, non c'era partita sia fisica che tecnica, meglio di così non si può, insomma. Pelin? No, a me è piaciuto tanto l'atteggiamento, cioè quello che avevo detto nella partita contro la Stalernitana, che mancava aggressività, invece si vedeva bene come quando la palla arrivava al terzo, c'era Pereira che partiva a mille impressioni, quindi quello ti porta comunque alla squadra a essere più aggressiva, a non lasciare giocare perché poi Monza, si sa che comunque come paleggio ha dei giocatori bravi, insomma. Questo secondo me è stato il motivo, diciamo così, perché la squadra poi ha giocato bene, perché quando è sempre in partita, è sempre in pressione, poi recupera palla, quindi si crea quella fiducia, naturalmente anche le condizioni fisiche si stanno migliorando, perché probabilmente avranno fatto una preparazione a mille per partire subito, quindi anche le gambe si iniziano a girare, quindi ho visto veramente un Pereira che ha ripreso il suo ruolo di una volta e sembra che abbia fatto sempre quello. Sembra un ragazzino, lo puoi dire, perché poi ti faccio vedere una statistica, che abbiamo fatto un po' di conti nel pomeriggio, adesso a te ti faccio commentare delle azioni che ha scelto lui, proprio per questo discorso, vi ha chiesto il mister questa cosa di prestare più alti, di andare a essere più aggressivi, era una cosa che voleva. Sì, è questo che abbiamo migliorato nella settimana, perché contro la Salentana non abbiamo fatto tanto bene da questo punto, e contro Monza era il punto vero di miglioramento a fare. Quando sei uscito dal campo ti ha detto tanta roba? Sì, sì. Non è male che un allenatore dica tanta roba in quel momento concitato. Sì, è vero, è vero. Mi ha detto cose buone e sono contento. Hai un bel rapporto con il mister? Sì, sì. Parliamo da sempre, durante gli allenamenti e anche nel giorno normale, abbiamo un bel rapporto. Bene, andiamo a vedere quello di cui parlavamo, poi ci aiuta anche Moras un po' a spiegare questa cosa, no? L'atteggiamento diverso. Diciamo che il Monza ha avuto subito l'occasione dopo un minuto. Tolto quel minuto lì, io credo che per 31 minuti, fino al gol, che è arrivato alla prima vera azione del Monza, abbia giocato tanto l'Udinese. Qua si vede benissimo, una pallaccia buttata proprio un po' a casaccio da Sensi, e qua si vede come il Monza abbia due giocatori molto staccati dal resto della squadra, Petagna e Caprari. Il resto, lo si vede bene fra poco, è tutta una squadra chiusa dietro che ha anche paura a salire. Anche adesso Sensi e Valotti accennano, però l'Udinese guardate con che facilità e con quanto campo. E ora guardate cosa fanno i giocatori del Monza. Scappano tutti dietro, già tutti nella propria metà campo ed è stata veramente una situazione che si è verificata tantissimo. L'Udinese fino alla tre quarti non aveva praticamente alcun tipo di problema ad avanzare. Poi ovviamente le difficoltà sono avvenute nel momento in cui si doveva provare ad andare a bucare l'area e lì si è trovato, che in caso poi vedremo anche dopo, un pullman. Però per il resto il Monza era compattissimo e l'Udinese fin da subito è andata tutta la squadra praticamente a prenderli alti nella loro metà campo. Il Monza ogni volta che provava a ripartire c'era Beccao, Noiting, Masina, già sul cerchio di centrocampo e pronti via un'altra azione. Si ha nominato il giocatore che ha fatto la differenza già per la seconda volta, che è Beccao, che dalla linea difensiva è sempre il giocatore che si inserisce, che dà la superiorità, anche gli altri possono mettere tranquillamente il pullman, però quando lui arriva da dietro e l'ha fatto vedere, ti dico già la seconda volta, questa volta qui viene coronata anche con un ottimo gol che è stato analizzato anche ieri sera per la postura e per il movimento davvero attaccante che ha fatto Beto, come si è smarcato e come è riuscito ad anticipare anche l'uomo. Quindi l'Udinese è stata molto propositiva quando aveva la palla e molto aggressiva anche in non possesso palla in Lovric, che abbiamo visto il giocatore che andava veramente da mezz'ala fuori a pressare e questo è stato il segnale. Io se sono del partito, come ho chiesto agli altri, mi piace fare complimenti per la lettura che ha avuto il mister in queste due partite, sia la Salernitana in inferiorità numerica, dove ha avuto il coraggio di continuare a giocare anche cambiando l'assetto tattico della linea difensiva e altrettanto quando ha fatto i cambi coraggiosi, quando ti ha sostituito te, in un momento delicato della partita, però ha fatto dei cambi dove ha continuato sempre ad avere ancora più forza la squadra, quindi ha dimostrato che nel collettivo della squadra la squadra c'è tutta. Questa cosa di Beccao è vera, lo vediamo sempre di più dalla fine della scorsa stagione che glielo abbiamo fatto notare chiedendogli se volesse fare l'attaccante, ma si lancia, eh? Sì, dalla superiorità è fatto tanto bene per noi davanti. Assolutamente. Allora, facciamo un giro di domande e poi andiamo a vedere la partita di Makengo prima di lasciarlo andare perché c'è una partita dopo domani di cui ovviamente parleremo. Partiamo dalle domande da casa, poi vado dal coma. Allora, innanzitutto arrivano tantissimi messaggi ovviamente per te Gian, da casa scrive Antonella sei una garanzia, non hai mai sbagliato una partita da quando sei arrivato qua, ovviamente hai avuto bisogno di crescere ma poi hai fatto capire perché l'Udinese aveva puntato su di te, poi ti chiedono però quando arrivano i gol la prima domanda e poi sul ruolo, se preferisci giocare mezzala sinistra o mezzala destra perché tu contro il Monza sei partito dall'altra parte. Mi piace giocare a destra perché posso andare dentro con il sinistro, però a Udine preferisci giocare a sinistra con Udo, abbiamo la connessione. Cioè siete connessi, sapete già che cosa fa uno e che cosa fa l'altro. E per quello che mi piace tanto giocare a sinistra con lui. Voi siete amici anche fuori dal campo? Sì, anche fuori dal campo, sì. Vi frequentate anche fuori? Sì, da sempre. Sempre. Come la vive lui questa cosa? È sereno, sì? Sì, sereno, lui sa dove vuole andare e continua a fare il suo lavoro. Eh sì, l'abbiamo visto, parleremo anche di lui dopo perché assolutamente. Allora, domande da San Daniele per Machengo. Vai, Foma. Allora, intanto lo salutiamo tutti. Saluto anch'io Gianvictor perché è una grandissima persona. Qua sono un po' timidi per le domande, però mi dicevano, ma Gianvictor Machengo perché non tira un po' di più? Visto che ha la castagna nei piedi, quindi ha questo tiro incredibile. E allora mi dicono, perché non tira di più? Allora glielo domandiamo subito intanto. Beh, ci provi però. Visto che aveva evitato la domanda su quando arriva il gol. Sì, devo rispondere. Sì, io voglio crescere da questo punto. Quando ho uscito da un dribbling, io so che devo tirare da questo punto che devo crescere. Adesso proviamo nella partita di mercoledì e tutta la stagione. Non sarebbe male. Eh, Adriano, tu è un tuo vecchio cavallo di battaglia che bisogna segnare. Sì, dell'anno scorso, glielo hai detto, vero? Devi inseriti in più senza palla. Dalla porta opposta dove c'è la palla, te ti inserisci e verrai quanti gol farai. Eh? No? È vero? Sì, sei sicuro. Non aver paura dietro, 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 che si arrangino un po', che scali qualcuno, che si perdi un po' un altro, che ti fredda. L'importante è che la butti dentro. Questo è, il gol fa sempre la differenza, sempre, comunque. Vabbè, sono sempre consigli un po' così. Comunque li prendiamo. Che dici, Paolino? C'è qualcosa che vuoi dire a Makengo, tu? Ma, no, 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 ha ragione il mister. È quello che dicevamo l'altra settimana scorsa. Il momento in cui la squadra dei centrocampisti che riescono a riempire l'area quando la palla arriva dall'esterno, e Makengo ha le qualità per farlo, perché ha una gamba notevole, riuscirebbe a beneficiare lui perché farebbe più gol, come dice il mister, e renderebbe il lavoro molto più facile anche la squadra. Andiamo a vedere intanto lo suo. Andiamo a vedere la sua partita? Sì, andiamo a vederla, perché è stata un'ottima partita, una partita in cui, più che le solite giocate, le solite sgroppate, io sono andato a vedere quante zone del campo ha occupato Jean Vittor, perché qui, come gli si chiedeva poco fa, vediamo proprio il 3-5-2 di Lodinese, con la linea, con Pereira da una parte, Udoge dall'altra, Lovric, mezzala sinistra, Wallace, ed eccolo qua, Jean Vittor che, in una delle prime occasioni, io non ricordo di averlo visto spesso sull'altro lato, e poi ovviamente Beto e Deulofeu, quindi fa la mezzala di destra in questo caso Jean Vittor, e come detto, si trova benissimo da una parte e dall'altra, quindi un'intuizione assolutamente positiva, quella di Sottila, anche se poi ha invertito nuovamente, facendogli un po' alternare lui e Lovric, qui altra posizione studiata perfettamente, se Pereira va dentro, ecco che Macchengo viene a prendersi il pallone sulla fascia, quindi anche qua, lui parlava della connessione con Udoge, mi sembra che la connessione ci sia stata assolutamente anche con il Tuku, perché poi quando Pereira viene a prendere il pallone, come detto, lui è subito che va a sostituire l'appoggio sulla fascia, poi ancora era capace anche di, ovviamente, di andare a pressare alto e crea, e questo poi glielo vogliamo chiedere, perché lui è stato, almeno secondo me, come si vede in questa azione qua, l'uomo che aveva il compito di andare a braccare Stefano Sensi, che è un po' il faro del Monza, l'ha seguito in tutto il campo, l'ha seguito e ovviamente Sensi è stato molto limitato da questo controllo, prima abbiamo visto che Sensi aveva calciato una palla su, senza neanche guardare, qui infatti non ha potuto servirgliela di Gregorio, e anche qua Machengo lo vedete, che si abbassa perché Pereira si alza, non c'è lo spazio per andare in verticale, come vuole Sottile, allora Machengo fa un po' il pendolo, va a destra, sinistra, davanti, e ovviamente anche basso a prendersi il pallone, poi qui, a proposito, queste le avevamo già conosciute, classica sgruppata, va via, il pallone c'è, poi il pallone non c'è, e il fallo chi gliel'ha fatto Sensi, che non è stato in grado di andare a creare il gioco per il Monza, ha provato allora a distruggere quello dell'Udinese. Poi qui, altra grande prova di forza di Jean Victor, sempre sull'auto di destra, una serie di dribbling, questa è una delle tante azioni insistite con il Monza, che potete anche contarli voi, aveva otto giocatori, a un certo punto nove con Caprari, giocatori in movimento, e quello fuori era Petagna, che era a un metro dall'area di rigore, questo ancora per tornare nel discorso di prima. E poi ho chiuso, a proposito di tiri da fuori, un bel tiro che secondo me, senza la deviazione, avrebbe creato non pochi grattacapi a Di Gregorio, poi ovviamente da qua l'Udinese ha preso il corner, quindi direi, ma Kengo a tutto campo. Tutto giusto, ha detto? Sì. Anche su questa cosa, su Sensi? Sì, sì, sì. Te l'aveva chiesto il mister? Sì, sì. Quando loro partono del basso, dobbiamo giocare a uomo, e io sono andato su Sensi per seguire. Beh, fatto giusto. Ti porto a casa la promozione di esame. Queste due partite adesso cosa vogliono dire? Insomma, arrivano due squadre forti, tutte e due in casa, a distanza di pochi giorni. Che tipo di esame è? È sempre bello per i calciatori di giocare contro queste squadre, e noi vogliamo sempre fare punti, e siamo a casa, e vogliamo portare i punti a casa, e questo è l'obiettivo. C'è stato un bel seguito di pubblico nelle prime dottor's bet, anche a Monza abbiamo visto prima col Poma tanta gente, tanto affetto. Lo sentite? Sì, sì, da sempre. Quando siamo sul campo è questo che spinge, che fa la differenza. Audine, è sempre tutto bene, sei contento, in città vivi bene. Sì, sempre. Sei ormai sempre più integrato, questo è il terzo anno. Che cosa, oltre ai gol, che cosa ti piacerebbe realizzare in questa stagione? Magari anche a livello di squadra. Cioè, che obiettivi ti poni? Io ho detto che il primo giorno voglio essere ancora di più un leader nei fatti e questo è l'obiettivo di dimostrare che sono un leader e un calcettore importante per la squadra. Joe, posso inserirmi? Sì. Io lo so leggere, perché ho studiato francese, però Jeanne, ci traduci quello che ci scrive Toujours au top Jeanne, on se voit, che vuol dire in italiano? Sempre al top Jeanne. Ok. Ci vediamo mercoledì allo stadio. E come si chiama? La bandiera. Sì, la bandiera. Io qua la collego un pochino sulla domanda degli obiettivi alla casa china della Francia. Ci pensi? Sì, sempre, sempre. Questo è un obiettivo per me. Penso sempre a quello. Ti hanno mai dato l'idea di seguirti, di vedere come vai lo staff della Nazionale? Hai mai avuto voci che magari qualcuno ti stava guardando? Io non so. Non lo sai? Meglio non saperlo, andare avanti e fare sempre del proprio meglio. Assolutamente. Allora, guarda che ci sono le ultimissime e poi possiamo anche lasciarlo andare. Prima, però, io volevo approfondire anche con Michele, approfondire. Insomma, oggi ho letto, Michele, un tuo corsivo su tutto mercato e ho letto questa questione di Perez che sinceramente ho trovato interessante. Posso mettere le virgolette su interessante? Ci spieghi che cosa è successo a questa roba di Perez? Ma niente, che la giustizia sportiva è quello che dico da anni, ma giustamente, e ripeto giustamente, io vengo ignorato perché l'ho vissuta sulla mia pelle a livelli molto più bassi ovviamente rispetto all'Udinese, ma è una pagliacciata la giustizia sportiva. Questo è il documento che ho tirato fuori oggi su tutto mercato web dove si doveva discutere e dico doveva discutere il reclamo e il ricorso per le due giornate inflitte alla squalifica di Perez espulso in Udinese Salernitana. Due giornate, l'Udinese fa ricorso, ogni ricorso costa tra i 2.000 e i 5.000 euro al ricorso, poi considerate i gradi e considerate quanti ricorsi fanno dalla Serie A alla Serie D tutto l'anno, parliamo di milioni di euro nelle casse della Federazione Italiana Gioco Calcio e ci prendono in giro. Sapete cosa è successo? Che oggi, grazie a quello che ho tirato fuori il documento della Corte Sportiva d'Appello Nazionale con il Presidente, il Vice Presidente Umberto Maiello e il Relatore Michele Messina, se andate in basso a destra c'è una PEC con l'arrivo di questo PEC orario 14.03 del 25 agosto, sapete quando loro dicono nell'udienza fissata il 25 agosto 2022 tenutasi in videoconferenza, sapete questa videoconferenza quando c'è stata con l'Avvocato Malagnini a rappresentare l'Udinese? Il 25 agosto alle 15.09 hanno tirato fuori una sentenza alle 14.03 prima di discutere il ricorso che poi c'è stato in videoconferenza grazie ovviamente adesso alle videoconferenze perché non si fanno più dal vivo la videoconferenza c'è stata alle 15.09 ma la decisione era già stata presa ma avete capito di che stiamo parlando? si prendono i soldi si sono presi i soldi prima hanno deciso e poi hanno parlato con l'Avvocato avendo già deciso e poi hanno fatto una discussione che hanno fatto una discussione di un ricorso che era finta perché già era uscita la sentenza prima di discutere il ricorso vi sono spiegato? ma è una roba allucinante però ma certo che allucinante ragazzi allora siccome io per sei anni non più ma si può ricorrere in qualche modo contro questa cosa o no? no no ascoltami perché sta roba mi manda su tutte le pure ci stanno prendendo in giro questa è una situazione gravissima non puoi fare niente tecnicamente tu di nese non puoi fare niente se non io che ti tiro questo documento e ti confermo che è una pagliacciata dove c'è un sistema milionario dove non viene discusso perché io questa cosa l'ho scoperta ero presidente di una società di serie B fino a giugno ho mollato me ne sono andato ho litigato con un arbitro ho preso 14 mesi di squalifico ho fatto il ricorso e ho una prova vocale di uno dei relatori che diceva appena abbiamo letto il nome e il cognome non ce ne frega niente abbiamo buttato e ricettato il ricorso ho le prove da un anno e mezzo e adesso è arrivata un'altra prova a scapito dell'udinese hanno tirato fuori una sentenza signori con la discussione in videoconferenza avvenuta un'ora e nove minuti dopo sono fatti guardate chiamate l'avvocato Maragnini scusa avvocato quando è iniziata a parlare alle 15.09 scusa invece quando è uscita questa PEC che è arrivata con il dispositivo che respinge il reclamo in epigrafe e dispone la comunicazione alla parte con PEC 14.03 no se non fosse veramente clamoroso ci sarebbe da ridere non so ditemi voi ma che effetto vi fa sta roba non ce va il limite al peso no ma è allucinante è allucinante comanda loro non c'è niente a fare ti fa pensare a cose a cose brutte torniamo al discorso dell'anno scorso se lo fa la Juve però forse la Juve avrebbe fatto il comunicato alle 16 dopo aver ascoltato l'avvocato dici no la Juve lo faceva ancora prima accoglievano il ricorso alle 9 di mattina vabbè si fa per scherzare però è una cosa veramente gravissima io sono senza parole no perché no ti toglie veramente la sicurezza cioè perché tu tu dici dai c'è sicuramente qualcuno che va a giudicare però se devono giudicare così dici c'è rimane sempre il dubbio cioè no no noi non abbiamo il dubbio di là sono sicuri di là sono sicuri va a simpatia secondo me vabbè avevano un po' più di decoro forse adesso se ne farò almeno fare attenzione a non sbagliare l'ora scusatemi almeno la forma ora lascia stare che la sostanza evidentemente c'è del peccaminoso in questa cosa però almeno salvate la faccia e pubblicate l'ora giusta io non so sono veramente non so che dire non so che dire vabbè vorrei chiedere un parere anche a Paolino ma vedo che il suo tempo sta per finire quindi vediamo di ristabilire la connessione prima di dover salutare Paolo magari sganciamo e riagganciamo vabbè queste sono cose che so che fanno arrabbiare io a te invece da calciatore ti chiedo quanto è rimasto male Perez per quella insomma per quell'intervento lì che poi vi ha lasciato in dieci sì lì era male l'ho visto nel suo oratorio fa sempre male di lasciare i suoi compagni a dieci però ha fatto il suo lavoro di far farlo tattico e lo so che lui sa che è molto importante per la squadra è vero dai c'è ancora una giornata perché il ricorso come avete visto dibattuto con grande equità è stato respinto un grande discussione presa in considerazione di tutte le varie va bene non ho parole c'è qualcosa che voleva dire il Poma su questo poi ci stendiamo un velo pietoso allora io voglio dirvi solitamente una cosa che noi dobbiamo spostarci da questo fantastico luogo andiamo verso la piazza un altro bel luogo che insomma è qui a San Daniele anche per finire in bellezza queste quattro giornate però lei voleva salutare qualcuno sì io porto il saluto di Dimitri Quaglia il presidente del GUCA del gruppo autonomi Udinese Club che non ha potuto essere qui presente unitamente a tutto il direttivo dell'Udinese Club 33038 di San Daniele porto i saluti al signor sindaco e a tutto lo studio e a tutti i tifosi dell'Udinese per una bellissima stagione benissimo lei invece chi vuole salutare? io voglio augurare un buon lavoro a tutto lo staff dell'Udinese Club e il prossimo anno li aspettiamo a San Daniele per la 37esima edizione ricordiamo nel mese di giugno caro sindaco mentre Maurizio si prepara con il regalo per Giorgia Bortolossi cosa vogliamo dire a tutte le persone che ci stanno guardando? ma vogliamo dire saremo qui ancora un due ore due ore e mezza quindi fino a oltre la mezzanotte e quindi chi è in zona venga a San Daniele e festeggiare con noi c'è lo stand dell'Udinese c'è un ottimo prosciutto c'è dell'ottima birra dell'ottimo vino friulano quindi vi aspettiamo a San Daniele e mercoledì e domenica tutti allo stadio sicuramente adesso da buon ostere beviamo qualcosa e salutiamo lo studio assolutamente lei cosa dice? io porto i saluti del direttivo dell'Udinese Club La Zebretta un saluto a tutti i tifosi bianconeri e che sia una stagione ricca di soddisfazioni e questo caro Giorgio è il regalo per te direttamente dal nostro Macron Store di Udine facciamolo vedere Maurizio questo regalo per Giorgio che deve venire a ritirare il dove? è già venuta da noi il nostro cliente è già venuta a trovarsi di recente e dovrà tornare perché dovremo personalizzare la maglia di suo figlio abbiamo pensato di ringraziare Udinese TV per aver iniziato il tonight dallo stand Macron Udinese Calcio abbiamo pensato un regalo per Giorgia e tutto lo studio vediamo quel bel regalo il tonight pensa sempre a te cara Giorgia questo è solo per te per tutti gli amici che ci seguono sempre ricordando anche le repliche YouTube e mi raccomando seguiteci 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 e non cambiate mai canale mi raccomando noi rimaniamo qui a San Daniele e festeggiamo con voi Cin Cin un applauso a tutti grazie ringrazio ringrazio tantissimo la maglietta è meravigliosa ringrazio a tutti i tifosi buona festa e tutto San Daniele così col pensiero siamo con voi ecco col prosciutto lo addentreremo volentieri soprattutto Felipe che viene da allenamento e non cena e adesso sta morendo quindi mi tocca mandare addirittura la pubblicità allora Jean Victor mi raccomando continua così perché ti abbiamo visto crescere proprio in impennata e arriverai sempre più in alto con questo atteggiamento con questa umiltà con questa simpatia qui sarai sempre il benvenuto e i tifosi l'hai visto ti vogliono bene quindi mi raccomando ok che sia una grande stagione grazie 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 Jean Victor Mac and Go andiamo in pubblicità torniamo tra pochissimo dobbiamo parlare di Udocio e di Pereira c'è una statistica incredibile di Pereira sì allora tra pochissimo torniamo e poi c'è il mercato mancano 70 ore più o meno c'è Michele scatenato torniamo tra poco eccoci qua di nuovo insieme al Tonight mentre sta arrivando in tutto quadri disegni per Mac and Go vi siete davvero sbizzarriti avete messo in atto il vostro senso artiste facciamo vedere uno eccolo qua è un'intratto di Jean Victor Mac and Go chi è che ce lo manda questo? non si firma quindi allora firmati tu che hai realizzato firmiamoci esatto perché è giusto che insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare va bene ok allora andiamo a con chi ce l'avete? ah no va bene andiamo a invece a parlare di Pereira vi va? beh a me va molto palino hai visto Pereira lo metti a destra gioca a destra lo metti in mezzo gioca in mezzo lo metti vicino alla punta gioca vicino alla punta cioè è un uomo che va bene per tutte le stagioni perché? poi quest'anno perché? perché è un fuori classe è tutto lì poi quest'anno con la fascia lo vediamo correre eh credo che gli abbia anche dato tanto entusiasmo che dici? ma sì più che responsabilità anche eh per cui per responsabilità eh se ne prendono se ne devono prendere i campioni di solito si dice sempre la squadra ti porta in finale e il campione la vince no? lui è uno di quei giocatori che in qualsiasi fase della partita sa cosa fare e lo puoi mettere ovunque perché appunto ha ha qualità superiori alla media e inevitabilmente lui interpreta il ruolo nella miglior maniera possibile volevo solo fare un inciso torno un attimo indietro a quello che ha detto Max prima e secondo me Becao è stato per distacco il miglior in campo domenica se poi ci aggiungiamo appunto la qualità di Pereira la ripresa che sta avendo in questo momento Udoge ma Ken Go che è un giocatore di livelli piuttosto alto evidentemente si trovano i motivi per cui la squadra sta piano piano crescendo è vero è vero assolutamente la qualità quello che diciamo sempre quando i giocatori di qualità vieni fuori vengono fuori prima o poi vengono fuori avevamo visto questa grafica di Pereira che era comparsa ed è questo un po' i numeri che questi sono i primi 15 giocatori in serie A per chilometri percorsi ok? stiamo parlando di tutta la serie A stiamo parlando le prime tre giornate Pereira è al settimo posto ma Pereira tra questi è l'unico che ha più di 30 anni quindi guardate lì 19, 23, 21 lui 31 anni è il settimo per chilometri percorsi e quindi per insomma questo la dice lunga anche sul fatto che non si risparmia un metro Pereira dovrebbero mettere anche la qualità però dei passaggi degli assi sì sì no sicuro ma quella sappiamo allora sarebbe il primo assolutamente quella sappiamo che ce l'ha però fai un algebra una formula algebrica qualcosa magica e tiri fuori la qualità e i chilometri percorsi non sarebbe mica male sembra parliamo di una macchina chilometri percorsi andiamo a vedere Pereira che un po' è una macchina in effetti perché non sbaglia un colpo vai sì perché ovviamente come abbiamo detto e ridetto Pereira e lo vediamo benissimo subito all'inizio di questa clip fa proprio il quinto in fase difensiva e poi ovviamente in fase difensiva si alza sull'esterno destro un ruolo che aveva ricoperto nella sua prima esperienza ad Udine Cono Guidolin non era titolare ma quando entrava nel 2010-2011 faceva proprio l'esterno a destra con Isla prima e basta poi che occupavano quel ruolo e poi piano piano insomma una volta cresciuto venne spostato più al centro da mezzala e anche da seconda punta qui lo vediamo sull'esterno mettere un gran pallone questo è uno dei primi inserimenti di Becao sappiamo bene poiché il secondo inserimento era stato quello giusto ma Pereira con quella qualità era andato a fare un lob proprio per l'inserimento nel brasiliano qui grandissima attenzione difensiva e non è che sia così scontato perché guardate qua al pallone arriva Molina che va bene non sarà Robben però comunque si trova di fronte un giocatore che insomma di base attacca solitamente invece oggi è stato davvero bravissimo si mette davanti e proteggere la palla fuori come se fosse un difensore che fa quel ruolo da dieci anni e poi ancora io vi faccio notare questa cosa qui guardate dov'è il tucco Pereira in questo momento all'inizio della nostra azione era qua e adesso guardate attentamente mette giù la testa e inizia a correre come una satanato e inizia a scattare velocissimo la palla arriva ad Arslan poi Arslan la cede a Success che svirgola il tiro e guardate dov'è Pereira in fuorigioco va bene infatti questo gol se vi ricordate quello dell'eventuale 3-1 poi è stato annullato giustamente per fuorigioco però Pereira era l'uomo più indietro di tutta la linea a iniziazione e a fine azione era l'uomo più avanti a proposito degli scatti che abbiamo fatto vedere poco fa in grafica abbiamo fatto vedere però anche il minuto esatto 86 86 86 e riesci a fare anche una progressione del genere vuol dire che sta anche molto bene fisicamente a livello fisico ma questo penso che sia un valore aggiunto anche sull'aiuto che lui ha dato alla squadra all'allenatore nella scelta che ha preso a metterlo esterno perché all'inizio penso che tutti tutti abbiano avuto un attimino una critica ma come ma come poi quando un giocatore invece così ti aiuta nella tua decisione diventa tutto più facile ti prendi complimenti e fa prendere i complimenti a tutta la squadra allora prima di lasciare andare Michele volevo capire cosa sta succedendo sul mercato vi abbiamo fatto vedere in apertura le prime immagini di ACV che in questo momento si trova in sede all'Udinese ha sostenuto le visite mediche magari regia possiamo anche rimostrarle per chi si fosse collegato più tardi è arrivato lo vedete questa sera poco prima dell'inizio del tonight ora sta firmando il contratto ci ha raccontato tutto Jacopo Romeo Live allora Michele ti volevo chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare da queste ultime 70 ore ti direi Giorgio un po' di tutto il Milan ha piazzato il colpo in difesa arrivato che è un giocatore sulla carta forte io non lo conosco non l'ho visto mai giocare però ormai Maldini e Massara hanno fatto hanno dato dimostrazione che ci possiamo fidare di loro il Napoli questa sera in prima serata ha raggiunto l'accordo per il passaggio al Paris Saint Germain di Fabian Ruiz quindi prende 23 milioni di euro in Napoli c'è questa suggestione Cristiano Ronaldo che per il momento trova conferme sul fatto che sia stato proposto ma non trova conferme sul fatto che l'operazione si possa fare chi è messa molto male sotto il punto di vista tecnico ed economico è l'Inter che per alcune centinaia migliaia di euro non riesce a chiudere neanche a Cerbi per accontentarlo sull'ingaggio quindi il difensore che l'Inter aveva individuato ovvero a Cerbi della Lazio per il momento non se ne fa nulla la Juventus sta aspettando Paredes ha ufficializzato Milic conferenza stampa di Milic ma la Juve senza play Paredes potrebbe arrivare domani è vero ma domani mancheranno 48 ore a giovedì e quindi il tempo inizia a stringere la Roma quello che doveva fare l'ha fatto la Lazio secondo me butterà dentro qualche altro tassello l'Udinese ormai ha le idee abbastanza chiare e ha di fatto ufficiosamente chiuso il mercato anche se io personalmente di Gino Pozzo e Pierpaolo Marino a livello di mercato mi fido meno che uno perché come l'anno scorso hanno fatto Beto alle 19.59 io che farò la maratona mercato dalle 8 del mattino alle 20 di sera alle 20 sicuramente non mi fido quando mi diranno l'Udinese ha chiuso il mercato perché l'Udinese è pericolosissima l'ultimo giorno quando ci sono delle occasioni loro ti tirano fuori qualcosa mi aspetto qualcosa molto 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 dalle squadre più piccole piccole il Monza deve fare 3 acquisti e mancano 3 giorni la Sampdoria ne dovrebbe fare 20 di acquisti ma non è anche la società alle spalle a Genova in questo momento quindi questo è un po' il quadro completo va bene Michele goditi queste ultime ore questi ultimi giorni scatenati ci rivediamo lunedì ok? ci vediamo lunedì e poi vi avendo a disposizione per raccontarvi anche parzialmente quello che è l'ultimo giorno al suo mercato ah sì perché avremo uno speciale anche giovedì poi torni venerdì con il venerdì del direttore insomma stai sempre qua va bene ti accogliamo volentieri quest'anno no è inutile che lo dici quest'anno ti ho detto che sarò la tua ossessione e quella di Campazzo e io ho già visto tre partite su tre dell'Udinese se poi mi giro nelle scatole dopo il derby di Milano domenica mi presento anche a Udine quindi stai calmina che arrivo eh ok ok sto calmina ti aspetto grazie Michele ciao buon mercato ciao ragazzi ciao 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 allora non abbiamo parlato di Udoge Paolino parto da te perché ora è il momento io sono felice della prestazione di Udoge perché si è detto eh ma uno che è già del Tottenham poi arriva qui magari è svogliato magari non ha le motivazioni magari tira indietro la gamba non abbiamo visto nulla di tutto questo Paolo no non si era espresso in maniera così entusiastica diciamo nelle partite precedenti dal mio punto di vista a Monza invece ha calato due o tre strappi e due o tre giocate che fanno pensare che comunque con la testa c'è e che può essere quel valore aggiunto che ci si aspetta eh naturalmente per lui è un bene far bene quest'anno perché comunque non è non è in vacanza non può non può pensare di esserlo per l'età e per la squadra che l'ha comprato deve dimostrare qualcosa ancora lo può fare a Udine perché ha fiducia da parte della società da parte dell'allenatore ma poi ha qualità e a Monza a Monza sono uscite eh non solo con il gol che è stato dal mio punto di vista fantastico ma ma anche per l'intensità e per quegli strappi che lo contraddistinguono è vero ora voi che siete avete fatto gli esterni lui con grande felicità tu con un po' eh di irritazione no di la verità che non ti piaceva giocare a finito no oddio no dipende da ma dipendeva dal modo in cui mi lo mettevo spaletti mi dicevo ok tu vai lì ma non è il tuo segui le azioni ma deve arrivare fino a una volta sulla bandierina io non ti chiedo altro però la fase di offensiva deve far bene quindi lui metteva già in chiaro gli altri no vai lì cosa ti chiedevano gli altri eh no vai fai l'esterno eh ho capito faccio il mio cioè io appoggio cioè non è che ho c'è la caposciata fisica di Pereira di di altri però poi si creava un po' di però ho sempre giocato andavo sempre dentro eh ho fatto dei gol Adriano ti sta guardando ho tre gol nelle prime dieci partite di testa andavo sempre dentro sempre dentro guarda che si è fiamato su Stario lo so che sta roba dell'esterno lo faceva impazzire ricordo no lo faceva impazzire sta roba di giocare esterno è solo lufa diplomatica ma tutti tutti fa impazzire quello lì quelli che hanno un po' di di mordente è un bellissimo ruolo perché non gli piaceva no perché non era ma bisogna avere altre qualità delle sue eh esatto lei deve avere però voglio dire voi che avete giocato esterni chi con entusiasmo chi con meno a me io guardo no ma sai cosa bisogna avere anche personalità no perché anche a me gli annatori mi dicevano mi raccomando per la donna stai lì dopo 20 secondi andavo già a far la punta no per dire qua allora con questo non è che uno sia meglio sia la mentalità no è quella che conta di offendere sempre così Udoge no però quando lo vedi no ti dà proprio subito con la naturalezza con cui fa le cose lo vedi subito che è di un livello superiore no ma l'abbiamo detto l'anno scorso quante volte eh andiamo a vedere mi ricordo la prima partita che ha fatto con la Juve la prima la prima proprio del titolare andiamo a vedere andiamo a vedere Udoge partendo dal minuto 6 anche qui poche opzioni per lui allora decide di andare fino in fondo e a proposito di mezzi fisici e di semplicità con cui fa le cose pur spinto da Bilindelli che davvero ha avuto un pomeriggio complicato a Monza che non è lento era riuscito a mettere sul fondo questo cross qua qua si rivede davvero tutto lo strapotere fisico di di Destiny Udoge che poi si lamentava anche per il fallo anche qui dal punto di vista difensivo c'è un'ottima lettura perché esce subito senza dare il tempo della giocata a Bilindelli che perde un attimo contatto con il pallone e guardate qua non gli riesce a stare dietro gli prende due metri in dieci centimetri e poi va ad aprire poi l'azione che per ERA prova a sviluppare per Beto e poi sappiamo insomma che poi Beto qua se l'allunga un po' troppo non importa però come era stata creata con la difensiva la transizione è subito diventata offensiva grazie all'intelligenza e alla forza di Udoge questo ovviamente è il gol di cui stavamo parlando batte la rimessa va a prendere lo scali da success 1-2 con Nestorowski e va a segnare il suo primo gol con l'esultanza di Stephen Curry e anche Baraschelli del Napoli e poi al minuto 79 gasato anche dal gol va a fare una chiusura niente male su un pallone molto insidioso e guardate cosa gli dice Masina qua davvero ottimo lavoro ottimo lavoro complimenti anche proprio dai suoi compagni e questo insomma è il tifo bianconero che esultava come per un gol per quella chiusura importante proprio del classe 2002 ci terrei sempre a ribadirlo Adri gli occhi a cuore si beh uno che fa quel ruolo lui fa questi gol questi strappi queste corse sai per uno come me che l'ha fatto tutta la vita praticamente uno che è nettamente superiore a tutti speriamo non per fare Ruffiano che lo chiami adesso è nazionale non ha nessuno perché anche quello della Roma lì come si chiama Spinazzola ormai ieri l'altro ieri ha dimostrato di essere lontanissimo da quello che è vero come ci chiediamo sempre come mai se i Vestri non vada in nazionale però non devi dargli tanti compiti di come posso dire di fase difensiva devi fare le cose giuste però devi a un cavallo così devi lasciarlo andare capito lui farà quest'anno dopo sai sono sempre previsioni possono essere giuste o sbagliate però io dico che farà tra 5 e 10 gol quest'anno ne farà di più dell'anno scorso va bene scriviamo scrivi scrivi la nazionale lo staff c'erano a vederlo sicuramente penso che i due giocatori che possono aver segnato chi c'era a vedere Mancini sia Oriali che Mancini tutti e due come staff penso che altrettanto anche Silvestri questo giro qui penso che una nota di merito gliel'abbiano messo che cominci a scalare anche lui le classifiche per indossare la maglia della nazionale da portiere questo sicuramente magari non da titolare ma per essere uno che può partecipare sicuramente allora vedo del movimento a San Daniele fatemi vedere un po' dove va il Poma ora tra poco andremo da lui c'è gente a San Daniele guardate un po' c'è gente sì Poma arriviamo tra un po' non preoccuparti ti diamo il tempo di fermarti dove vuoi bravo ok intanto un po' di messaggi esatto due messaggi molto interessanti da casa perché il primo fa un'analisi facendo un passo indietro e ci chiede ho solo una domanda per questa sera si può rivalutare alla luce dei risultati il pareggio interno con la Salernitana ricordando che abbiamo giocato per metà in dieci uomini visto e considerata la goleada fatta dal club campano contro la Sampdoria pareggio quindi da rivalutare o semplicemente la Samp è scarsa e questo effettivamente è qualcosina su cui si può riflettere e poi la seconda così mi collego e poi vi lascio rispondere da tantissimi da casa continuano a scriverci manca un attaccante manca un attaccante se si fa male Beto sono guai però io qui volevo dire noi abbiamo vinto la partita cambiando Deulofeo e Beto e mettendo Success e Nestorowski entrambi i protagonisti di quello scambio in area nel gol di Udoge quindi la domanda dopo questa mia considerazione ve la giro e rispondo ai tanti perché ce l'hanno chiesto in tanti che non è così scontato cambiare Beto e Deulofeo appunto e qui Sottil ha fatto una grande cosa però il problema il problema è anche un altro deve finire il mercato il mercato condiziona tutto specialmente quei giocatori che dicono vado via non so rimangolo se vado via devo andare via in che condizioni vado via che ho magari uno stiramento che ho un problema questo incide tantissimo sulla prestazione del giocatore secondo me quindi però su questa cosa che serve un attaccante non so numericamente numericamente Paolo tu che dici? numericamente no io no non so forse non è proprio una una cosa impossibile da pensare sicuramente gli attaccanti che ci sono sono di qualità Mestolowski ha chiuso l'1-2 con Udoge l'altro giorno dimostrando qualità success è una forza della natura Beto è imprescindibile questo è vero uno con quelle caratteristiche è difficile da sostituire però diciamo che sarebbe solo un qualcosa in più ecco non una cosa strettamente necessaria posso rispondere anche alla prima considerazione che avevano fatto da casa secondo me è difficile giudicare le partite così perché comunque siamo all'inizio e l'abbiamo detto fin dalla prima puntata ogni settimana si vedranno delle cose diverse per cui è difficile far paragoni tra le partite giocate e quelle che quelle che si giocheranno l'Udinese con la Salenetana non era la squadra che si è vista a Monza soprattutto dal punto di vista dell'intensità come diceva Feli non era la stessa squadra adesso piano piano si sta vedendo una squadra completamente completamente diversa sì è vero sembrava anche più più libera nel modo di giocare è vero più più coraggiosa più coraggiosa anche mentalmente con più voglia di hanno giocato hanno giocato sì assolutamente però posso posso spezzare un attimino l'altra mezza la Lovric ha fatto veramente una grande partita ne abbiamo parlato perché l'idea è sua sempre di verticalizzare cercare la punta di non fare il passaggio banale anzi cerca sempre la cosa difficile e poi ha dato veramente un'intensità non indifferente a metà campo quindi secondo me è stato veramente un inserimento che Pereira potrebbe fare ancora un paio di volte un peccato nel modo in cui l'ha fatto perché poi no che poi nel conteggio degli attaccanti bisogna ricordare che c'è anche Pereira Pereira va inserito in tutti i reparti e poi c'è anche il giovane che hanno preso abbiamo tempo anche di farlo crescere classe 2005 c'è un quinto cioè il quinto attaccante diciamo così numericamente quello che ha le caratteristiche molto più simili si ha detto a livello fisico però nell'età è un ragazzo che va portato va aspettato inserito sicuramente magari anche con un aiuto anche nella primavera credo che comincerà così no? beh sicuro tra poco andremo a sentirlo tra l'altro che oggi ha fatto la sua presentazione allora vado anche dal Poma un attimo Poma com'è la situazione? cara Giorgia la situazione è bellissima siamo nella fantastica terrazza Splendor corresponsabile della comunicazione del consorzio del prosciutto di San Daniele il dottor Nicola Sivilotti Nicola una bellissima manifestazione quattro giorni belli intensi e si pensa già alla trentasettesima edizione sì un ottimo risultato almeno quello registrato finora nei quattro giorni di San Daniele nonostante qualche piccola incertezza del maltempo è stata una bellissima edizione tantissimo il pubblico la serata di oggi ha raccolto tutti i friulani che sono giunti a San Daniele numeri ottimi anche per il sabato e la domenica tantissimi arrivi dall'Italia soprattutto dalle regioni Lombardia Toscana Liguria quindi diciamo che il prosciutto di San Daniele e la festa aria di Friuli Venezia Giulia si è aperta anche a territori nazionali e arriva a portare a promuovere il prosciutto di San Daniele ma anche gli altri prodotti pieno calzonomici della nostra regione mercoledì sarai presente allo stadio ti aspettiamo per Udinese Fiorentina assolutamente sì chiudiamo aria di Friuli Venezia Giulia anche con gli eventi itineranti poi mercoledì lo stadio e lavoriamo per il prossimo anno anche perché ormai manca poco di nuovo torneremo a giugno quindi abbiamo meno tempo allora cara Giorgia io rimango qui anche perché aria di Friuli Venezia Giulia continua magari dopo la trasmissione potete venire qui anche voi a San Daniele perché si respira veramente un'aria di festa incredibile c'è ancora un po' di prosciutto di San Daniele per voi del buon vino e tante belle sorprese cara Giorgia quindi vi aspettiamo non finirlo tutto il prosciutto eh Poma lascia due pette se dovessimo venire mi raccomando ok abbi pietà di noi va bene allora chiudiamo il collegamento con San Daniele e ringraziamo il Poma tra poco torneremo da Jacopo per capire che succede con Esibue a che punto siamo se c'è la firma prima però fiondiamoci pure sulla Fiorentina ragazzi tu sei un ex tra l'altro caro Feli come era andata a Firenze? nel mio caso no diciamo che è stato ti tiro fuori tutto tutte le cose belle mi stai tirando fuori grazie Giorgia a te ringrazio dal cuore sicurati no allora è stato è stato difficile è stato intanto dopo tantissimi anni che era a Wooden andare via in una piazza che comunque era esigente e tutto diciamo che ho fatto le prime due partite nel mio ruolo ecco sempre per tornare su ok e poi? e poi dopo terzino a sinistra a quattro che avevi da allenatore su Prandelli e lì e lì ho fatto ho fatto comunque è quello che mi diceva vai lì no no sì ok fai terzino cioè sai chiaramente avevamo un cavallo davanti che avevamo Vargas quindi non è che c'era bisogno di andare tanto dovevo solo appoggiare la fase difensiva la facevo ma andava bene ho sempre giocato mi la facevo giocare lasciavo fuori comunque due di ruolo come Gobi e Pasqual però poi alla fine Prandelli è andato via dopo quei insomma quei sei mesi sono arrivato nel mercato di gennaio e poi dopo Corvino mi ha detto no tu te ne devi andare io non ci vado vabbè è stato un attimo però vabbè mi ha fatto capire veramente cosa sai finché sei a Udine non ti rendi conto quello che c'è veramente insomma da altre parti anche come come rapporto come io ero già non ero neanche convinto di andare via in quel periodo lì a Udine però per vari motivi non so a dilungarmi alla fine ho dovuto scegliere questa strada però a di là di questo la Fiorentina è cambiata parecchio rispetto a due anni fa giocano bene giocano bene perché il Miss è veramente uno bravo uno molto attento cambiano i giocatori ma comunque il risultato loro cioè come tipologia di gioco c'è sempre e sarà una partita difficile sarà una partita bella secondo me perché poi l'Udinese deve avere quella aggressività che ha avuto a Mosa chiaro è una seconda partita dopo insomma dopo qualche giorno ora secondo me bisogna cominciare a fare un po' i conti nel senso che a centrocampo sono bravi tutti eh per Aira è bravo Lovric è bravo Makengo è bravo c'è un Slam che è entrato bene quella barriera che è difficile togliere c'è un Slam che è entrato bene poi c'è anche l'altro Slam è quello che comunque quando entra fa sempre bene sì e lì bisogna sceglierne tre eh sì no ma guarda su quello l'Udinese è tranquilla nel senso perché poi si vede anche in queste gare qua come ha detto prima le quelli che sono entrati ci sono entrati bene con l'atteggiamento giusto le due punte non è che sono mosse molto bene perché erano proprio due punte però poi alla fine dove c'erano c'è insomma dentro l'area ci sono fatti vedere perché prima Sassets che difende parfa 1-2 poi va a fare 1-2 con l'altro e ha fatto gol ad oggi quindi questo è l'atteggiamento Aslan quando entra c'è l'office quando è insomma gioca dal primo minuto quindi secondo me l'Udinese e questo porta un pochettino anche il fatto dell'allenatore no? come coinvolgere tutti quanti e secondo me per quello è chiaro è ancora l'inizio cioè si può però si vede che comunque c'è il coinvolgimento di tutta la rosa allora temi più la Fiorentina e la Roma poi lo chiedo anche Paolino magari ci riconnettiamo con Paolino per l'ultima volta perché vedo la schermata dimmi penso che l'Udinese possa mettere molto più in difficoltà la Fiorentina con la tipologia di gioco che fanno questa linea difensiva molto alta l'Udinese gli piace molto la fase della ripartenza per il più adesso avendo recuperato Beto che è un giocatore che oltre la linea è difficile da marcare penso che la partita venga incentrata molto sul lasciamo giocare la Fiorentina che venga a prenderci pure alta perché è l'idea del mister italiano e penso che l'Udinese la Roma è già diversa da affrontare però secondo me ti dico sono fiducioso non per una ma per tutte e due le partite perché vedo l'Udinese che sta bene che sono coinvolti tutti preparati una cosa che vuoi farci vedere della Fiorentina al volo prima prima di chiudere voglio tornare alla Dacia Arena perché avevamo aperto con Jacopo Romeo e con l'arrivo di Isibue e volevo capire Jacopo a che punto siamo come sta procedendo la serata Siamo alle formalità burocratiche Giorgia quindi come al solito i tempi tecnici sono sempre quelli di un'oretta un po' di ore abitualmente in cui il giocatore accompagnato anche dal suo entourage e sistema tutti gli ultimi dettagli burocratici e poi si va ad ufficializzare quello che è il suo trasferimento ed anche a documentarlo poi come sempre facciamo con la firma e con le prime immagini anche con la maia e bianconera di tutti i giocatori ma nello specifico di Kingsley Isibue io rivolgo lo sguardo altrui perché da un momento all'altro la situazione potrebbe arrivare a Dama e quindi comunque se non riuscissimo anche a farlo visto che immagino che tu sia in chiusura di trasmissione a documentarlo live durante l'Utina di Settonight c'è l'appuntamento col TG subito dopo ci sono comunque i notiziari domani mattina sicuramente vedrete come sempre in anteprima le immagini del nuovo acquisto bianconero dell'uomo che andrà a prendere il posto sulla corsia di destra di Nahuel Bolina e Brandon Soppi di Kingsley Isibue che tra pochissimi minuti sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese perfetto grazie Jacopo buona attesa rimanete collegati tutta la notte perché vi aggiorneremo su qualsiasi cosa no vabbè insomma tra stasera c'è il TG e poi domani mattina la segna stampa vi mostriamo tutto ok una cosa della Fiorentina la facciamo commentare a Paolino che oggi va bene visto che ci sono 8 secondi mi prendo il rischio di fartene vedere due una positiva una negativa vai 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 abbiamo preso il gol di Buonaventura facendo vedere ancora una volta come accompagnano tutti i centrocampisti della Fiorentina non abbiamo tempo di far vedere quei disegnetti però Buonaventura e tutti i centrocampisti della Fiorentina che approfittano del fatto che gli esterni schiaccino molto la squadra avversaria una squadra avversaria tutta trascinata indietro e poi pallone a rimorchio Buonaventura a calcia una cosa invece sulla quale possono andare in difficoltà sono le palle alte non mi faccio vedere il gol di Occhere che è sempre in Fiorentina cremonese ma mi faccio vedere questa errata lettura di Martínez perché Martínez Quarta va molto in difficoltà sulle palle alte e io credo che un Beto possa andare in difficoltà come era andato con Occherecche e tra l'altro da casa ci fanno i complimenti per il cameraman che segue il Poma in maniera molto complicata Daniele da Portoguaro il grandissimo Francesco Tecchio che segue il Poma a giorno e notte Francesco Tecchio gli va dato un premio Francesco Tecchio assolutamente assolutamente diglielo Tecchia altra professionalità altissima professionalità Paolo tu che dici ti spaventa più la Fiorentina o la Roma? se ti spaventa qualcuno ci senti? ma sì sì adesso ti sento di sicuro si alza la competizione qua si alza il livello della competizione si torna quasi come alla prima di campionato sarà un po' la prova del nove vedremo vedremo se la crescita che abbiamo visto a Monza può essere confermata con due squadre non ho preferenze fra le due se vuoi la risposta ma due squadre che giocano a calcio che hanno dei giocatori di qualità notevole e la Fiorentina ha quella pericolosità quando attaccano attaccano in tanti hanno le mezzali che si buttano dentro vanno a chiudere forse sono un po' più sovventato della Fiorentina ecco dai do un punto do un punto a favore della Fiorentina però indubbiamente si alza di tanto di tanto il livello eh sì una bella prova tu Adriano cosa ti aspetti? ma io ho guardato ho guardato i segnali della Fiorentina sono tre partite che non fa un gol mi pare quindi la partita a Duente a Duente e dopo la partita domenica anche quella prima dove era quella prima non mi ricordo a Empoli forse non lo so sì a Empoli e non ha fatto un gol questo per una squadra che ha grande ambizione torniamo al solito discorso se non la butti dentro ci sono gravi problemi e questo può essere un grande vantaggio sai è sempre così una previsione però per fare previsioni come rigore bisogna avere coraggio perché puoi essere sempre smentito puoi essere sempre smentito però invece ho visto la Roma con la Juve se vai a prenderli alti non avendo più Zaniolo che fa quegli strappi almeno mi pare che deve stare fuori non può se vai con gli strappi se vai a prenderli alti un po' gli crei grandi problemi se vai a pressarli è chiaro che poi lì deve avere corsa deve avere resistenza organizzazione deve avere tutto e se invece li subisci sono pericolosi perché loro davanti sulle palle alte sui calcii d'angolo palle alteve ha questo spilongone che va che è bravo di testa e anche dentro l'area è bravo comunque io ho grande fiducia hai grande fiducia bene siamo curiosi vogliosi di affrontare questi test ci piacciono eh Max? altro che penso che siano le partite più belle quelle da giocare quando hai un avversario dove devi dimostrare come ha detto Paolino si alza di molto il livello però se sei gruppo se sei veramente squadra lo dimostri in queste partite qua il momento è giusto è il momento giusto ci cedi una vittoria un parigi una vittoria quindi c'è quella quell'entusiasmo quindi bene abbiamo abbiamo grande fiducia allora vediamo l'appuntamento a mercoledì con Studio Stadio e poi tutti i soliti appuntamenti della settimana domenica di nuovo Studio Stadio ci sarà torniamo col tonight lunedì faremo lo speciale sulla chiusura del mercato giovedì insomma ci siamo sempre ogni sera voi mettete sul 12 ci trovate pronti con tutte le notizie allora saluto Alessandro Surza ciao Gio una sera a tutti ciao Max Monas grazie di esserci venuto a trovare ben volentieri ieri io ritorno sempre ben volentieri allora ti rilasciamo all'altra domenica ma ogni tanto ogni tanto per non farti sentire la mancanza ti chiamiamo qui va bene ben volentieri ok ragazzi ci vediamo lunedì ciao Feli tu stai per cominciare campionato si domenica domenica in bocca al lupo contro il mestre subito ecco subito vedi c'è porti via Paolino un po' oggi che non ha fatto una faccia felice conosco bene il mister fammi questo regalo ok mi raccomando fallo per lui ti proverò va bene grazie Adriano grazie a voi ci vediamo lunedì Paolino ciao ciao buona settimana ciao buona serata a tutti a presto allora non abbiamo fatto in tempo per sentire Semedo però potete ascoltarlo nel nostro telegiornale sportivo con la conferenza stampa integrale di questo nuovo acquisto bianco nero vi salutiamo grazie per essere stati con noi ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 21.15 sempre al Tonight ciao